Vi dico solo, vi dico solo, ascoltatelo, dalla sua bocca uscirà la fura e santa verità! Con cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio Latrippa! In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io mi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, farei costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! E se io mi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di freggiarsi di quest'appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per i beni del paese, voi mi credereste? Sì! E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli incerui! Dei fessaggiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio! Dico cacchio! Perché questi signori appena saranno eletti poseranno i loro sporchi deletane sugli scanni della camera! E poi lasci, e lasci! E poi saranno soltanto i loro sporchi affari e faranno fessi perché sono bapponi! Apponi! 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 Non battaglia per me! Non battaglia per me!